Il governo dalla sua parte? Il ministro Lupi? Non posso far finta di non essere facile. No, nel senso che sarebbe per dire sì o no, capito? Qual è la risposta che darebbe uno di noi facile? Per il momento, purtroppo le risposte non sempre sono facili. Per il momento sì, vedremo. Vedo anche alcuni interventi da parte di alcuni esponenti importanti del PD che sono un po', come posso dire, raccapriccianti. Ho sentito l'intervento di Orfini di ieri, che è il presidente dell'Assemblea del PD. Cioè l'ha trovato raccapricciante Orfini? Sì, sì, perché vedo emergere, come dire, riemergere. Perché io, lei come sa, ho sempre tifato Renzi, ho sempre sperato in Renzi e credo che sia un'opportunità per il Paese. Però, insomma, vedo riemergere una doppia morale che ha radici storiche dentro la sinistra italiana in cui, come dire, si giudicano le vicende di Lupi, tutte da dimostrare, tutte da verificare in un certo modo e le vicende di altri esponenti del PD in tutt'altro modo. Per il momento il governo sostiene Lupi, domani Maurizio Lupi verrà in Parlamento, spiegherà tutto di questa vicenda e poi trarrà le sue conclusioni e il Parlamento, la maggioranza, trarrà le sue conclusioni. Vediamo domani cosa succede.